Perché mi hanno detto che si aggira nello studio, vorrei capire... È lui? Tom! Tommaso Zorzi! Ma che ci fai lì? Alfonso! Ma vieni qua, scusa! Vengo! Ma che fai lì così? Arrivo, sono venuto a vedere come proseguivano qua! Mi sento un po' a casa! Ma dove sei? Arrivo! Ma dov'è? E là è il vincitore della passata edizione! Ma pensa a te! Ma questo sorpresore! Ma questa manco io me l'aspettavo! Oltre a volte non è la mia prima... Ma che bello! Ma non ti aspettavo di vedere! Ma allora, sono venuto perché ho detto... Sono molto affezionato a questo luogo che è stato a casa mia per sei mesi, e poi l'ultima volta che ero qui è stata per me una serata indimenticabile, quindi un po' per continuare... È un po' cambiata la tua vita, eh, diciamo! Guarda, infatti non volevo perdermi nella retorica e riassumo tutto in un grazie! Ma grazie! Devi anche ringraziare te stesso! Vieni qua con me, perché... Certo fa un certo effetto, eh! Mamma mia! Guarda come gli batte il cuore! No, sto tremando, sto tremando!